ragazzi buongiorno mi raccomando per chi volesse sostenere il canale lo può fare gratis con un semplice clic boom parrucca stiamo arrivando parrucca calma calma parrucca calmati calma parrucca calma calma perché alla prima sconfitta ti incazzerai alla seconda incomincerai a dare la colpa ai giocatori e dirai buongiorno cosa vuoi vincere un buongiorno quello giocava nel torino neres cosa vuoi vincere con neres giocava sulla spiaggia questo incomincerai a fare parrucca scaricherai la colpa sui giocatori come hai sempre fatto perché non ti sei mai preso la colpa caro parrucca e non meriti di essere primo noi meritiamo di essere primi tornando a conte conte detto parrucca a firenze soprattutto parrucca è un allenatore che ha un culo come un aeroplano c'è poco da fare ragazzi perché l'ho detto prima lui si ritrova primo perché ha avuto un calendario non in discesa proprio nel burrone un calendario nel burrone in più gioca una volta a settimana il suo gioco è sempre lo stesso degli anni ottanta ovvero sia vietnam centrocampo e ripartenze stesse reteose che faceva la juve che poi ha provato a fare al tottenham dove gli hanno tirato i pomodori ha sempre fatto questo gioco qui parrucca parrucca è quello poi va fuori dall'orticello del calcio italiano e prende schiaffi da chiunque perché quel calcio non funziona match parrucca gasperini parrucca gasperson parrucca piangerini chiamali come ti pare non lo so dove ai cinese inutile me lo chiedi chiamali come vuoi gasperini ha un gioco troppo spericolato in avanti senti cosa ti dico gasperini ha un gioco troppo spericolato in avanti occhio perché parrucca con una con una tipologia di gioco come quella dell'Atalanta potrebbe andarci a nozze perché parrucca lì fermo inerme che aspetta e tu sbagli per ripartire in contropiede ma l'Atalanta è una squadra che comunque segna fa gol almeno che l'Atalanta non fa un uno barra due gol subito allora lì la partita si metterebbe totalmente in maniera ehm diversa il problema dell'Atalanta che gestisce male i vantaggi un po' come quando manca da noi stessa identica eh cosa e eh essendo molto sbilanciata in avanti rispetto all'anno scorso eh i Bergamaschi hanno dei giocatori e non hanno dei giocatori così precisi nei passaggi quindi anche quello potrebbe essere un campanello eh d'allarme tra l'altro Napoli Napoli a Kvara Schella che è un grande giocatore ma che fa sempre le stesse finte fa sempre gli stessi movimenti se lo studi bene Kvara Schella non ti dico che è facile fermarlo perché è un campione ma comunque il repertorio di Kvara è quello lì se poi vogliamo parlare di Giudacu secondo me in Napoli con un attaccante più forte al Milan al Milan decimato gliene faceva quattro perché Giudacu in certi movimenti è imbarazzante non è non è il Giudacu di sei sette anni fa quindi se te riesci a limitare Kvara Schella a Napoli e marchi a uomo Giudacu perché lui la soffre molto la marcatura all'uomo secondo me in Napoli per un cinquanta e santa per cento non ti dico che è bloccato ma quasi poi ha comunque dei buoni giocatori ha degli ottimi giocatori anche a centrocampo non è non sono gli ultimi degli arrivati però ragazzi secondo me questa potrebbe essere l'occasione buona ripeto è una medaglia dalla doppia faccia perché l'Atalanta è in grado di fare due tre gol a Napoli ma è anche vero che Parrucca potrebbe speculare proprio sulla vena offensiva dell'Atalanta quindi è un po' difficile da dire come va a finire capito perché io te l'ho detto a inizio video ricordandovi di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina e non chiedermelo più dove è il cinese perché non lo so dove è il cinese lo hanno ricongelato va bene il cinese lo hanno ricongelato e lo hanno rimesso nella cella a frigo non lo so dov'è a Parrucca bastano due sconfitte per crollare basterebbe già che perdesse contro l'Atalanta già incominciano i mugugni se poi qualora perdesse anche con noi lui scaricherebbe tutta la colpa sullo spogliatoio sui giocatori che non hanno vinto nulla e lì noi andremo a nozze perché da quel punto poi dopo facciamo il fumo verso parrucca perché sono film già visti sono film già visti quel calcio anni ottanta non lo porterà da nessuna parte vedrete ne riparleremo parrucca ascolti una cosa vieni qua parrucca vieni qui stiamo arrivando ciao it grazie a tutti